Il mio nome è Gian Paolo Tazzi, sono il manager dell'hotel Cipriani ora da 4 anni. Il Cipriani è stato il primo hotel del nostro gruppo Orient Express che ora ha 50 proprietari all'interno del mondo e il primo hotel che ha aperto è il Cipriani in 1978. E da quel tempo il Cipriani è diventato un icono in l'industria dell'hotel. Il Cipriani è principalmente un hotel di resort, un hotel di città, perché è loccato su una highlanda, davvero in fronte di San Marques Square. Abbiamo un tennico sull'interno, abbiamo un grande spa con un giro e un air dresser. Abbiamo un boutique, abbiamo un'area di compagno in un'area di compagno, abbiamo un club di bambini per le famiglie che chiedono il Cipriani per venire con i loro bambini. Abbiamo due barri, uno sul pò e uno vicino al giardino. Abbiamo due restauranti. È una atmosfera molto rilassante e dopo un giorno di sun o di shoppire in Venecia è davvero il giro per rilassare. Ciao ragazzi! Grazie!